Ciao, benvenuti al mio nono video tutorial per imparare a suonare la chitarra. Ricordo che i miei video sono dedicati a chi ha un primo approccio con questo fantastico strumento. Oggi vorrò spiegarvi un brano molto semplice dal titolo Mary We Roll Along, un brano popolare trascritto appositamente per voi per questo corso e questo brano è caratterizzato dal fatto che vede protagonista un solo dito, ovvero il dito 2 della mano sinistra, il medio, che posto sulla terza corda secondo tasto otterrà il là. La scelta del brano per questo video è stata dettata dal fatto di poter trovare uno stimolo per esercitarsi ancora di più nel movimento del dito. Vorrei che voi impariate ad articolare con un movimento preciso, definito, ma soprattutto corretto, quindi che rientri in quello che potrebbe essere un trattato delle regole della corretta impostazione per suonare la chitarra classica. Vi ricordate ciò che abbiamo detto nei video tutorial precedenti? Quando un dito tasta una corda dobbiamo preoccuparci che la corda sottostante sia libera di vibrare e soprattutto quando il dito lascia la corda che ha tastato lo fa con un movimento piccolo e non ampio o esagerato, come sto facendo adesso. Per questo ho scelto Mary Lee We Roll Along, che adesso vi suono. Mi do il tempo, come sempre. Pronti via! Pronti via! Questo è l'ultimo video di una serie che ho preparato appositamente per chi ha un primo approccio con questo magnifico strumento. E naturalmente, se avete delle domande, non esitate a scrivermi a antoniochiocciolaaccadeniadellachitarra.it o semplicemente a commentare questi video. Grazie! Alla prossima! Ciao ciao!